Sei potente, invincibile, ammirabile, grande, forte, credere sei, tu risplendi, incomparabile, tu sei incredibile, sei l'unipotente, grande, tu sei incredibile, te ne previ. Leggerò in prima re dal capitolo 19 al versetto 9. Elia entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse, che fai qui Elia? Elia rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli disse, esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ricordatevi queste parole, esci e fermati. Ed ecco passava l'Eterno il Signore. Un vento forte e impetuoso squacciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro. Come di questo Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva, di nuovo, possiamo dire di nuovo, che fai qui Elia. Infatti ho chiamato questa predicazione, che fai qui Elia. Elia che fai qui. Va bene, questa indica una posizione che le persone hanno preso. Una posizione che tu hai preso, hai preso una posizione. Va bene, ti sei rintagliato uno spazietto, ti sei chiuso in una caverna. I tuoi soliti amici, il club, i tuoi soliti incontri, le solite cose, le solite situazioni. Ripeti sempre le stesse cose. Certo, sono indice di sicurezza il ripetere le stesse cose, ma non sono indice di vita. Non significa. Le variazioni, il cambiare, il confrontarsi, vuol dire vita, vuol dire in qualche modo andare allo scoperto. In territori che ci sono sconosciuti, in posti che noi non conosciamo abbastanza bene e ci sfuggono. Quindi non abbiamo il controllo della situazione. Voglio anche dirvi che quando si legge la parola di Dio, la parola di Dio merita attenzione. Molti leggono la parola del Signore con una certa superficialità, molto velocemente, ma per trarre dei benefici dalla parola di Dio bisogna meditarla, bisogna masticarla, per trarre le benedizioni affinché essa diventi carne in noi, diventi gioia in noi, diventi felicità in noi. Diceva Geremia al capitolo 15 che appena ha letto la sua parola, appena ha avuto la sua parola, l'ha divorata e essa è stata gioia e allegrezza per me. In effetti se vi soffermate, se riflettete, se sui versetti vi intestardite e cominciate a chiedere cosa vuol dire questo versetto, cosa significa per me, cosa mi vuole dire, voi troverete gioia, scopo e il Signore si rivederà a voi. Dio si rivela a coloro che cercano, non a coloro che leggono, perdono molte benedizioni, puoi leggere anche dieci capitoli, ma se non sei profondo, se non ti soffermi nella parola di Dio, come dice il salmista, beato l'uomo che prende il suo diletto nella legge dell'Eterno e in quella legge medita giorno e notte, cioè non è superficiale, è profondo, si chiede il perché il Signore parla così, infatti io mi sono chiesto il perché. Elia, tutto questo discorso per arrivare a che cosa? Chi ci stava nella caverna, scusate fratelli e sorelle, c'era Elia, c'era solo lui, siete d'accordo? La parola di Dio non mente, la parola di Dio è verità, ma perché Elia ha trascritto queste cose, ha dato questi input? Perché lui ha raccontato questa storia innanzitutto che lo vede in difficoltà? Perché questa brutta figura? Perché Elia qui fa una brutta figura? Ora ha raccontato queste cose perché lui non ci tiene alla propria reputazione, perché tutti gli uomini di Dio, tutti i veri uomini di Dio, tutte le vere donne di Dio, non ci tengono alla buona reputazione, la buona reputazione è essere un cristiano, non dobbiamo difenderci davanti agli altri e dire essere sottoposti al giudizio degli altri, degli altri non vale perché gli altri non hanno la luce del Signore, e molto spesso quelli che ce l'hanno la perdono. Noi dobbiamo imparare che scavando in questo episodio noi impareremo perché Elia viene fuori e perché si mette in discussione. Innanzitutto lui è il profeta del fuoco che apparirà a Gesù sul monte della trasfigurazione insieme a Mosè. Quindi stiamo parlando di un personaggio estremamente importante, estremamente carismatico, estremamente potente nell'opera dello Spirito Santo. E lui era talmente zelante che sfida Aqab e 400 profeti di Baal, che addirittura deride. Dice vediamo l'iddio che risponde col fuoco, quello è il Dio, è il Signore. E davanti a tutto il popolo che non sapeva cosa scegliere, era indeciso tra Baal, il popolo di Israele. Era deciso tra Baal e Dio e l'Eterno. E lì, dopo aver fatto gettare tre misure d'acqua, una sola volta invocò il Signore. Loro settero tutta la giornata, non scese né niente, neanche una scintilla, perché quel Dio non esiste. Esiste solo il Signore. Amen. È l'unico vero Dio. Ascolta, Israele. Il Signore è l'unico vero, è l'unico Dio. È l'unico adora, è il Signore, è il Dio tuo. Non ci sono altre divinità, altri concorrenti. Lui è l'unico Signore. Che meraviglia, in cielo, sapere che c'è solo Lui che ha il governo di tutte le situazioni, e che a volte interviene e a volte no. Perché Lui è Dio, Lui sa se deve intervenire a volte, e Lui sa se non deve intervenire. Decide Lui, amen. Per una volta tanto non vogliamo, visto che nella vita vogliamo decidere sempre noi, adesso decide Dio, amen. E se decide Lui, decide il bene. È sempre il bene. Allora, Elia scappa perché una donna lo minaccia. Dice, io farò a te quello che tu hai fatto ai 400 profeti di Bala. Jezebel rappresenta uno spirito che odia i cristiani, e che li perseguita, e che in sostanza vuole uccidere il profeta. Elia, un uomo coraggioso, si scoraggia. A volte ci scoraggiamo, e credo che è anche giusto, tra virgolette, lasciatemi dire questa parola, che ci scoraggiamo anche noi. Si è scoraggiato Elia, ci scoraggiamo pure noi. Mi sembra regolare. Siamo nella regolarità, amen. Il problema, qui dove nasce, è che talvolta dimentichiamo tutto ciò che Dio ha fatto nella nostra vita, e ci scoraggiamo della situazione che stiamo vivendo. Io ho imparato a fare qualcosa, una sorta di ritorno. Ogni volta che sto passando un momento difficile, che non conosco, e quindi sto camminando come un cieco, mi ricordo tutte le volte che Dio è intervenuto con una precisione svizzera, scusatemi se dico questo, al momento opportuno, nel luogo opportuno, il Signore è intervenuto. E allora ricordandomi questo, dico, il Signore interverrà, non mi lascerà solo, fatelo anche voi, ricordatevi tutti, benedici anima mia all'Eterno, e non dimenticare alcune delle sue benedizioni, delle sue, di ciò che Lui ha fatto per noi. Non dimenticare niente, perché quel fatto che non dimentichi produce fede nella tua vita, e produce attesa, speranza, e questo ci dà tanta forza. Elia si è scoraggiato, ci scoraggiamo anche noi, ma fa una cosa incredibile, e la racconta a me, e la racconta a te. Lui crede di essere solo il solo credente, solo io, nessuno mi capisce, nessuno ha passato quello che ho passato io, sono solo, sono abbandonato. Oh Signore, noi crediamo di essere a volte i soli, gli unici nell'universo che soffriamo, oppure i miei conservi, gli unici, l'unico pastore che ha rivelazione, l'unico pastore che capisce tutto, poveri pastori che stanno in queste condizioni, e povero mese, vado a finire in questa situazione, Dio a migliaia di servi, che lodano e benedicono il suo nome, a me, in tutti i posti, in tutte le attitudini, e non c'è mai un minuto, nel giro della vita, ogni giorno, che non ci sia qualcuno che lodi l'eterno, è vero, noi dormiamo, gli australiani si svegliano e lodano Dio, 24 ore su 24, Dio viene lodato, perché Dio ha il suo popolo in ogni posto della terra, amè? quindi Elia si era rinchiuso, solo io, vado a sera, e cosa fanno quelli che credono, i soli credenti che capiscono tutto? Si isolano, diventano preda, dei loro pensieri, succubi, del loro inconscio, inconscio malinconico, triste, non mi capisci, non mi capisci, non mi capisci, è che ti devo capire, vuoi sapere chi ti capisce? Dio, Gesù ti capisce, perché nessuno ha sofferto come Gesù, nessuno ha dato la vita per te se non Cristo, Gesù ha detto che ti amerà fino alla fine, Gesù ha detto che sarà sempre con te, Gesù ha fatto le premesse, e qua è vero, io a volte non arrivo a comprendere tutti, o qualcuno, mi sfugge, perdonatemi, ma Gesù ti capisce, amè? Hai sempre il Signore con te, quando esci dalla chiesa, Lui verrà con te, sarà a casa tua, Lui sarà presente con te, e nella misura che tu credi, Dio sarà con te, amè? Questa è la promessa, ora se è successo Elia, può succedere che stamattina ci siano tanti Elia qui, e io voglio incoraggiarti questa mattina, smettila di credere che sei il solo che capisce, perché tanto se pensi che sei il solo che capisce, non capisci niente, basta, e poi soprattutto la cosa, basta chiuderti, stanno, è troppo bello stare sugli spalti, tutti quanti si chiudono nella caverna, perché, a che fare nella caverna? A non fare? Niente, sono tutti bravi nella caverna, ma esci fuori, esci fuori, Dio sa che disse Elia, non lo compiatì neanche per un minuto, non disse anche, poveretto Elia, esci fuori, esci fuori, che stai allì, esci fuori, esci fuori e fermati, adesso ti faccio vedere io chi sono, ah, com'è bello il nostro Signore, amè? E' fuori dai sentimenti, va dentro il vero amore, fa comprendere agli uomini e alle donne, basta piangervi addosso, entrate nella realtà della fede, credete in me, amè? credete in me, è bellissimo Gesù, è bellissimo, è straordinario il nostro Signore Dio, guardate cosa succede, ora ci sono tre manifestazioni straordinarie, che precedono il Signore, giusto? Noi abbiamo vento, terremoto e fuoco, attenzione, è Dio che permette che fuori dalla caverna passino vento, terremoto e fuoco, perché? Perché prima che tu afferri, ti sto dicendo una cosa, molto importante, prima che tu riesca a sentire bene il dolce sussurro, io a volte lo sento, a volte no, vorrei tutti i giorni sentirlo, sono affamato di sentire la sua voce dentro, poi quando la sento sto molto attento, non è che me la so, non è che subito me la bevo, devo verificare la parola, se sto nella volontà di Dio, perché può essere pure la mia testa, ho visto tanti perdere la testa, quindi però ti voglio dire una cosa, prima del dolce sussurro, ci sono delle manifestazioni di Dio, c'è il vento, avete mai sentito a volte il vento? Io l'ho sentito, stavamo in chiesa, sentì un vento passare, è la verità fratelli, un terremoto, nella Bibbia dice che dopo che gli apostoli ebbero pregato, in Atti 4 quel luogo tremò, è vero, tremò, per la presenza di Dio, il fuoco è la manifestazione di Dio, è vero, ma, il Signore vuole portare Elia, io ho fatto scendere il fuoco dal cielo, ti ho bruciato, il sacrificio, hai visto come ho agito, la pioggia è arrivata sulla tua profezia, ma ricordati che è la mia parola che devi sentire, è la mia parola che devi leggere, è la mia parola che devi capire, è la mia parola, è l'intimità con me, è quella che conta, non ti far fermare, goditi il vento, goditi il terremoto, goditi anche il fuoco, ma ricordati, non ti soffermare su questo, perché io quando passerò, passerò con la mia parola, vi ricordate cosa disse a Mosè, io mi rivelo ai profeti, a uno parlo in un sogno, ad uno parlo con segni, ma al mio servo io parlo faccia a faccia, c'è il Signore, è venuto sulla terra Gesù, per consentire ad ognuno di voi, a me, di avere un'intimità con Dio, e lui desidera questa, desidera questa intimità, Signore, allora, questa intimità, si raggiunge, avendo attenzione per la sua parola, scrutandola, investigandola, Signore, cosa mi vuoi dire, voglio appropriarmi di questa parola, voglio mettere in pratica, lo voglio pensare, voglio che diventi per me, quello che ha fatto, quello che si è realizzato in Gesù, Gesù era la parola vivente, e lui desidera avere e onorare, desidera essere onorato in questo, il Signore non si potrà mai rivelare alle persone superficiali, alle persone del sabato e della domenica, diciamo così, ma lui vuole rivelarsi alle persone che sono intense con lui, che hanno attenzione con lui, ma voglio dire a tutte le sorelle presenti, ma vi piacerebbe un marito distratto, un marito che non ha attenzione, che non vi guarda la collana che vi mettete, o il vestito che indossate, e non vi dice neanche come sei bella, come mi piace, vi piacerebbe sorelle? Beh, se avete questo tipo di marito, allora voglio sollecitare i mariti a fare i complimenti alle mogli, amè? Perché è bello essere osservati, a ricevere un complimento, essere un minimo attenti a certe situazioni, e il Signore desidera che noi siamo attenti, siamo attenti a lui, allora la domanda che gli fece Gesù, la risposta di Elia, guardate, è molto potente, Signore io sono stato preso gelosia per te, ma il Signore non lo risponde su questo, perché quello che dice è importante, Signore, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserci, cioè io sono stato geloso per te, ho fatto questo per te, sì, ma mo' che ci fai qui? Io amo il Signore, sono geloso di Lui, amo la Sua gloria, ma mo' che ci faccio qui? Fermo nella caverna, perché sto fermo nella mia condizione? Perché dico agli altri quello che sono? Oh, capisco gli altri, e io non faccio niente, e io non faccio niente, sto nella caverna, la domanda che io faccio ad ognuno di voi è a chi ascolterà questo messaggio, la domanda è una sola, il Signore disse, Elia, che fai qui? È la stessa cosa che dice anche a me, e dice anche a te, che fai qui? Che fai qui, in questa chiesa? Che fai qui? Coraggio, che fai a casa tua? Che fai? Non leggete nella richiesta di Dio un'azione, un'azione, cioè Dio desidera che noi agiamo, che fai qui? Muoviti, esci, guarda che io ti manderò a ungere Eliseo, andrai a ungere il re di Siria, farai questo e quello, esci, perché io desidero persone che si muovano per me, che agiscano per me, che abbiano in sen, dentro di loro, un senso di movimento, di miglioramento, oggi stiamo migliorando, amè? Domani non saremo quello che siamo oggi, perché domani pregheremo, domani afferreremo qualche altro significato, domani sopporteremo, domani non risponderemo, domani supereremo altre difficoltà, perché ogni giorno è un combattimento, amè? Quindi domani miglioreremo, amè? Amè? rifiuteremo le insinuazioni del diavolo, le insinuazioni della vecchia natura, e combatteremo per la nuova natura, e non ti stancherai, amè? Non ti stancherai, perché se non ti stanchi, raccoglierai a suo tempo, dice la scrittura, è vero, noi non ci stancheremo, allora che fai qui? Uscire dalla caverna, uscire dalla condizione, e fare un movimento, verso Dio, ora questo da che cosa dipende? Da me, dipende da te, dipende da ognuno di voi, tu puoi sentire la voce di Dio che dice esci, no no io sto così bene nella caverna, io sto così bene, bello, non piglio freddo, sto tranquillo, non viene nessuna jezebel qua, non mi venga da fastidio, no no io sto nel mio cantuccio, beh allora quando esci fuori puoi beccare ferite, sì, puoi prendere ferite, puoi prendere offese, puoi sentire dolori, puoi avere, ma vale la pena, perché sai che fai? Insieme a queste cose, avete tribolazione, ma io ho vinto già, cioè, nella tribolazione, sapete che Gesù ci è più vicino, tu puoi stare nella caverna senza il Signore, ma devi uscire fuori per incontrare Dio, amè? Devi uscire fuori per incontrare Dio, devi uscire fuori per sentire la sua voce, devi uscire fuori per vedere il vento, il fuoco, il terremoto, devi stare fuori, fuori dai tuoi pensieri, dagli schemi, da ripetere sempre le stesse cose, Signore Gesù, Dio ci vuole portare a un rinnovamento straordinario nella nostra vita, allora, io ho terminato, e ripeto, con una sola domanda, dunque, allora, Elia, scrive, io ritorno al concetto che ho detto prima, Elia scrive, racconta questa sua storia, perché in questa sua storia, lui vuole raccontare a tutti noi, lo Spirito Santo, mette in cuore Elia di scrivere questa figura, tra virgolette, tra virgolette, capite come lo dico, questa figura, non proprio bella, ma la racconta, finché io l'ho vissuta, e Dio mi ha aiutato, e come ha aiutato me, aiuterà anche voi, e quello che può succedere a te, di chiuderti una caverna, mi è successo anche a me, ma coraggio, esci fuori, esci fuori, perché il Signore ha delle nuove cose, addirittura, quante uomini c'erano? Settemila, Elia disse, ma come, non ero solo, settemila, Signore, settemila e uno, Dio ha sempre i suoi servi, ma a luce dappertutto, quando i discepoli fuggirono, sapete chi andò alla croce? Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, discepoli occulti, dice la parola, nascosti, ma quando erano tutti dispersi, Dio mise in moto, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, che non, se leggete bene, non aveva consentito, alle deliberazioni, del collegio, degli anziani di Israele, del Sinedrio, Dio ha sempre i suoi testimoni, ricordatevi, siate testimoni di Dio, perché tanto, ricordatevi, se non lo sarai tu, Dio chiamerà un altro, vi ricordate cosa disse, Mardochè alla regina Esther, sappi, che se tu non intercederai per noi, Dio chiamerà qualcun'altro, vuoi sapere cosa dico? Che se tu non ti muovi, Dio chiamerà qualcun'altro, e poi quel giorno dirai, ma perché l'altro? Perché tu sei stato fermo nella caverna, ci stai da troppo tempo, Dio passa oltre, amè? Forza, chi vuole uscire dalla caverna stamattina? Amè? Amè? Amè?